Voglio ringraziare Molaseno che mi è arrivato un pacco direttamente dalla Sicilia, precisamente da Erice, in provincia di Trapani, quindi direttamente dalle mie zone, bellissimo. Vi faccio vedere che cosa ho ricevuto. Allora, innanzitutto qui abbiamo uno sconto del 10% sul prossimo ordine che sicuramente farò. Allora, qui abbiamo le busiate trapanesi al nero di seppia, cioè io adoro le busiate, poi il nero di seppia è una novità assoluta che proverò sicuramente. Dopodiché qui abbiamo il sugo al nero di seppia, bellissimo con questo di qua. E poi infine abbiamo una birra artigianale Sicilia. È una birra artigianale siciliana, non vedo l'ora di provarla. Grazie mille a Molaseno per questi prodotti. Grazie mille a Molaseno per questo video.